Il 7.30 precompilato sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 30 aprile. Ne abbiamo parlato con l'economista Gianni Lepre. A partire dal 30 aprile 2022 sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato. Sono tenuti alla presentazione del modello i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche bene immobili oltre naturalmente alla prima casa che non va dichiarata o che ha interesse a presentarlo perché ha spese deducibili o detraibili. Chi ad un riscontro del modello 730 precompilato si accorge che ci sono dei dati inesatti, li può variare entro il 30 settembre 2022, però attenzione, chi varia deve conservare la documentazione perché può essere chiamato ad un riscontro dall'Agenzia delle Entrate.